Caripande 2017, Manuel e Flavie. Loro due sono bravissimi. Nella prima volta che partecipano al Caripande vengono da... Canada. Canarà. Si, 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 però lejos di qui, ma non passa nulla perché l'Italia c'è gente, e noi dobbiamo vivere qui per dare quel fuoco, quella neve del nord e mantenere un festival di Caripande speciale, come è un festival molto speciale, chiaro. Loro di fuoco ne hanno tantissimo. Sì, perché io non ho niente, io solo sono un bailarino che segue di mia figlia, questa tia è responsabile di tutto. La donna è responsabile. La donna, la pratica, io sono loco, lei fa tutto per me. Capito, la responsabilità. Sì, non c'è, ma devo guardare a Manuel altrimenti... Lei ha bisogno di aver conto di Manuel perché altrimenti è complicato. E siamo in una relazione di 4 anni, enti, e precisamente, Siamo a casare questo anno, ma lei non lo sa, quindi non le dico nulla, quindi mi sento solo contenta perché bailo con qualcuno che amo. Caripande, quindi, vi è piaciuto? Caripande, per sempre, l'anno prossimo, l'anno prossimo, l'anno per Fernando, ora io sto come un virus a Caripande. Movida Channel e Caripande, saluto per tutta Italia, voi sono molto speciali per noi, perché è un paese che ci sentiamo molto accettati, abbiamo molta famiglia qui, di Roma, ora molta famiglia di Terni e è speciale vedere un paese come Italia, sapendo che la chisomba sta a un livello molto alto e i studenti apprezzano anche gli istruttori, quindi ci dà una voce di chiedere. Ciao a tutti, a presto, al prossimo anno! Tutti i frutti, tutti i frutti! Tutti i frutti